E caro amico imprenditore, perché oggi più che mai utilizzare il video come strumento di marketing? Beh, i numeri parlano da sé. Considera che in un giorno ogni minuto circa 3 milioni di persone sono collegati su YouTube per vedere dei video. Immagina cosa cale se consideriamo anche i video visualizzati sui social, su Facebook. Questo per ricordarti che stai rinunciando ad una grande opportunità se oggi non sei presente grazie a dei video. In più il video ti consente, rispetto a qualsiasi altra forma di promozione, che può essere un volantino, può essere un 7x3, insomma qualsiasi altra tipologia di canale, di poter comunicare molte più cose. Per quanto può essere palida e di grande qualità la grafica che ha realizzato, non potrà mai comunicare in modo così completo, così come è capace di fare un video. In più perché scegliere i video di Anch'io Spot? Beh, ormai la gente ama contenuti semplici e stufa dei classici spot istituzionali che tra l'altro prevedono dei grandi investimenti a cui spesso un imprenditore ha difficoltà a poter accedere. Grazie ad Anch'io Spot invece oggi anche tu potrai in modo decisamente accessibile realizzare il tuo spot e fare della semplicità l'elemento di forza che ha reso proprio unico il circuito di Anch'io Spot. Per cui cosa stai aspettando? Se non stai ancora utilizzando dei video, rivolgiti ad Anch'io Spot per comunicare la tua attività in modo semplice e coinvolgente.